allora buongiorno signori oggi corso di bucata con antonio deve far dichiarazioni guarda senza parola non volete venire a fare i corsi ci vengo io sì l'antonio ha detto che viene spesso l'aspetto anche perché antonio uno che bisogna farsi amico non vi diciamo perché voilà buon appetito antonio mi faccio vedere un po di panorama